Ora andiamo ad analizzare i metodi multistep, che sono non altro che gli alter ego dei metodi di Runge-Kutta, che presentano, se Runge-Kutta presentano metodi a un passo, qui abbiamo metodi multistep, quindi a più passi. Il primo passo è immaginarceli. Infatti, nei metodi multistep io calcolo un più 1 usando tutte le informazioni disponibili che ho da tn a tn-m. Pensiamo all'intervallo diviso in n parti, noi utilizziamo tutte le informazioni da tn, tn-1, fino a tn-m. Ora ci chiediamo qual è la forma generale di un metodo multistep? Bene, è la seguente. Un più 1 è uguale alla sommatoria per j che va da 0 a p, per, scusate, non per, di aj, di aj per un meno j, più h per la sommatoria di j che va ancora da 0 a p. In questa sommatoria abbiamo bj per fn-j e poi abbiamo la parte importante che caratterizza i metodi, questi metodi, o meglio, caratterizza l'essere espliciti, scusate, la natura esplicita o implicita di questi metodi, che è questo termine b-1. In base a, se è 0 o se è diverso da 0, il metodo è esplicito o implicito. Partiamo, però andiamo per gradi e vado a spiegare tutti i termini. Allora, partiamo da aj e bj, che sono questi termini, aj e bj. Cosa sono? Sono dei numeri, sono dei numeri reali che identificano lo schema multistep. Ok, quindi semplicemente basta dire che appartengono a r. Lo scriviamo magari qua. Appartengono a r. Poi, e sono diversi da 0. E diversi da 0. Ok, e caratterizzano in modo univoco lo schema multistep. Poi, fn, che cos'è fn? fn non è altro che la funzione f, tn, un. Ora ve la evidenzio. Sappiamo che fn è f di tn, un. Quindi, come potete intuire, fn-j non è altro che f di tn-j, un-j. Nel caso di n più 1, tn più 1, un più 1. Per questo abbiamo la differenza tra esplicito e implicito. Per chi non l'avesse ancora capito, ora faccio degli esempi. Faccio degli esempi con argomenti che abbiamo già trattato in video precedenti. Ovvero, il punto medio e il metodo di Simpson. Il punto medio è un metodo a due passi esplicito. Perché se andiamo a sostituire, anzi, lo faccio vedere subito, com'era il metodo del punto medio. un più 1, pm, è uguale a un meno 1, più 2h, fn con n, maggiore uguale a 1. Ok. Detto ciò, che cos'è a? a è 1. Perfetto. Poi b è 2. Infine, qui in realtà ci fermiamo a 0, perché l'assumatore è che va da 0 a 0. E poi ricordiamo essere esplicito. Infatti, b meno 1 è uguale a 0. Analogamente, ricordiamo anche il metodo di Simpson. Il metodo di Cavalieri-Simpson, quindi KCS, Cavalieri-Simpson, si riscrive come un più 1, uguale, scusatemi, un più 1 ho già scritto. Allora, dicevamo, si può riscrivere come un meno 1, più h terzi, che va a moltiplicare fn meno 1, più 1, che è fn, più 1, fn più 1. fn meno 1, l'ho già scritto. E qua chiudo. Allora, cosa abbiamo notato? Abbiamo notato che a, qui era 1, e poi basta. Analogamente qua è ancora 1. bj, bj prima era 2. Nel nostro caso, invece, è 1 terzo. Poi, vabbè, h è h. Passiamo. Anzi, bj per essere pignoli è 1 terzo, è un vettore, è un vettore 1 terzo. E poi c'è anche per fn, quindi abbiamo sia 1 terzo qui che 1 terzo qui. Ok? Così vanno un pochino più preciso. E ora arriviamo a b meno 1. b meno 1, che qui non ho evidenziato con nessun colore, scusatemi, b meno 1. b meno 1 è questo 1. E questo rende implicito il metodo multistep di riferimento. Quindi, come potete vedere, il metodo di Simpson è un metodo implicito e questo è testimoniato dalla presenza di b meno 1 diverso da 0. Anche per questi metodi è possibile definire l'errore di troncamento. L'errore di troncamento tau n più 1 di h è quel tau n più 1, tale per cui viene rispettata la seguente relazione, ovvero h di tau n più 1 di h è uguale a y di tn più 1 meno la sommatoria di aj per y di tn meno j più h per la sommatoria sempre per j che va da meno 1, perché come vedete b parte da meno 1 a p per bj y' di tn meno j. Chiudo la quadra. Poi abbiamo la consistenza, che come prima è il massimo su n di tau n è h e tale per cui il limite per h che tende a 0 di tau h Aspettate, perché ora mi viene un dubbio che io prima abbia scritto più infinito. Ecco, infatti, questo qui, scusatemi, ma questo qui non è più infinito, questo qui è tende a 0, questo è n che tende a 0 e non è n, ma è h che tende a 0. Scusatemi. Detto ciò, torniamo in avanti. Comunque anche nel video, quando ci sarà quella parte, lo scriverò anche a video. Abbiamo parlato del ritroncamento logale, abbiamo detto che la consistenza, ripeto, è quei valori di tau h massimizzati su n, tau n di h massimizzati su n e tale per cui il limite per h che tende a 0 di tau h è uguale a 0. Anche qui vale l'ordine p, vado avanti. I metodi notevoli. A partire dalla formulazione, distinguiamo due metodi differenti. Se partiamo dalla formulazione integrale, avremo i metodi di Adams-Bashford nel caso di metodi espliciti, Adams-Moulton nel caso di metodi impliciti. Analogamente, se approssimiamo la derivata su P più 1 nodi, avremo i metodi BDF. Quindi, dividiamo i metodi in due parti. I Adams, a sua volta qui in altre due parti. Qui scrivo un'integrale e qui scrivo la derivata. Integrale espliciti, espliciti AB, che sta per Adams-Bashford. Analogamente, qui avremo i metodi Adams-Moulton. Perfetto. Dall'altra parte abbiamo i metodi BDF, che otteniamo approssimando la derivata su P più 1 nodi. I metodi di Adams consistono nell'approssimare F con PYDF, che è il polinomio di interpolazione di F calcolata su P più teta nodi distinti. Dove? Anzi, facciamo che vi scrivo tutto, altrimenti giustamente non può rimanervi impresso tutto. Qui scrivo a tutti i metodi di Adams. che è il solito polinomio di interpolazione di F calcolato su P più teta nodi distinti. Dove questo teta è, nel caso di Bashford, quindi nel caso dei metodi espliciti, teta è uguale a meno 2. Nel caso invece dei metodi impliciti, quindi Adam-Moulton, nel caso dei metodi impliciti è uguale a 1. Scusate, qui era... Anzi, non scusatemi. Questo è 2. Non è meno 2. Questo è 2 positivo. Altrimenti non può essere. Procediamo e otteniamo quindi una formulazione di Un più 1, ritorno al nero, Un più 1 è uguale a Un più l'integrale del polinomio di interpolazione di F calcolato sui P più teta nodi in ds. Questo integrale è calcolato tra Tn e Tn più 1. Ok. Benissimo. Scusate per qualche lapsus. Quindi, tutti i metodi di Adams possono essere riscritti nel seguente modo, ovvero Un più 1 è uguale a Un più H per la sommatoria di BJ per F valutata tra Tn meno J e Un meno J. Un meno J. Scusate, questo è un po' troppo in alto per i miei gusti. E mancano i termini della sommatoria. La sommatoria va da J uguale a meno 1 a P. Questa è la formula generale dei metodi di Adam Moulton. Ok. Perfetto. Passiamo alla consistenza. Un metodo multistep è consistente se... Per motivi di tempo non analizzi i metodi BDF, scusatemi. Però volevo stare in dei video più brevi. Quindi vado avanti e scrivo consistenza. Bene, i metodi... Un metodo multistep si dice consistente se... Solo se si verificano le seguenti due condizioni, ovvero la sommatoria per J che va da 0 a P. J che va da 0 a P di che cosa? Di AJ è uguale a 1. E la seconda condizione è che... Meno sommatoria di J che va da 0 a P di J AJ più BJ più B-1 è uguale a 1. Ok. E questo stabilisce la consistenza del metodo. Inoltre è di ordine Q se vale la prima condizione che ho scritto, ordine. Ordine Q. Ordine Q. Se vale la 1 più si verifica la seguente condizione. J che va da meno 1 a P di meno J elevato alla i meno 1 a P di meno J elevato alla i meno 1 a P di meno J elevato alla i meno 1 di BJ. Per i, ok, ora mi torna, più la sommatoria per J che va da 0 a P di meno J elevato alla i per aj è uguale a 1. Questo vale per ogni I che va da 2 a Q. Ok. Adesso, dato che più o meno ci sono stato con i tempi, più o meno, dico brevemente due parole sui BDF. BDF consiste nell'approssimare la derivata, quindi y' di Tn più 1, con il polinomio di interpolazione sui B più due nodi. Quindi lo scrivo qui, approssimata con il polinomio di interpolazione di F sui B più due nodi. Ho cambiato F perché altrimenti potreste confondere il metodo. Così ho deciso di cambiare l'F con un F corsivo. Quindi il metodo si può riscrivere nel seguente modo. Prendo l'azzurrino e scrivo che Un più 1 diventa uguale a la sommatoria per gli aj Un meno J più HB meno 1 per F valutato in Tn Un Questo è più 1, scusate, in questo è Tn più 1, questo è Un più 1 e poi basta. Perfetto, con questo metodo un po' borderline con il tempo chiudo la mia analisi dei metodi numerici di ordine elevato per equazioni differenziali ordinali.